Oroscopo del giorno, giovedì 17 agosto 2017. Ariete. Toro. Toro. Amore, nuove prospettive si aprono per un futuro insieme alla persona amata. Le stelle sono di buon auspicio per prendere decisioni di notevole importanza per la vostra vita privata. I cuori solitari saranno effervescenti e maliziosi e non avranno voglia di impegnarsi seriamente. Lavoro, tutto procede per il meglio, forse anche oltre le aspettative. Sia nello studio che nel lavoro avete dato il massimo. Gemelli. Amore, se siete in coppia cercate di andare incontro alle esigenze del partner. Ogni tanto volgete lo sguardo sulle priorità della vostra metà invece di volgerlo altrove. I single faranno tante conquiste, nessuno oggi resisterà al vostro fascino e tutti cadranno ai vostri piedi. Lavoro, nel lavoro avrete bisogno dellaiuto di un esperto per risolvere una situazione delicata. Ragion per cui dovete stare in buoni rapporti con tutti. Cancro. Amore, non sarete molto entusiasti di dover fronteggiare ancora una volta una discussione con il partner, ma urge un chiarimento e non potete sottrarvi proprio adesso. Niente incontri interessanti oggi per i single ma una buona pausa di riflessione non vi farà male, vi aiuterà a ponderare le decisioni. Lavoro, non prendete decisioni azzardate su cose di cui non siete sicuri. Prima accertatevi se vale la pena continuare una determinata collaborazione. Leone. Amore, la vostra situazione sentimentale oggi vi regalerà grandi soddisfazioni. Anche leros vi farà accendere di passione e farete faville. Per i single urge una buona pulizia sulle amicizie. Fate piazza pulita di chi non vi non vi merita. Lavoro, siamo alle solite, ancora una volta cedete alla vostra impulsività e alla vostra voglia di antagonismo. Moderate i toni con qualcuno a cui non andate a genio. Virgine. Amore, una persona che viene da lontano turberà questa giornata che si preannunciava di buon auspizio. Attenti a non fare passi falsi, potreste dare luogo ad inutili pettegolezzi. Buone notizie per i cuori solitari, oggi in arrivo qualche flirt ma anche qualche anima gemella che vaga alla ricerca. . . . di voi? Lavoro, andate avanti per la vostra strada e lasciate perdere le inutili critiche che qualcuno vi sta facendo piovere addosso. Bilancia. Amore, sembrate deconcentrati, ma invece sapete bene cosa volete. La vostra insistenza ha fatto breccia nel cuore del partner che pare sta tornando allovile. Una simpatia particolare per una persona amica delizierà i single che vorranno farsi catturare. Lavoro, i buoni guadagni vi danno ampio margine di spesa, ma pensate che ancora non siamo a fine mese e non è il momento dello stipendio. Scorpione. Amore, spigolosi e a volte anche un po misteriosi, avrete atteggiamenti che poco si addicono ad una persona innamorata. Venere addolcirà questo aspetto del vostro carattere. Oggi i single saranno felici di conoscere una persona in cui hanno trovato forse qualche possibilità di iniziare un legame. Lavoro, qualcosa di nuovo farà capolino nella vostra sfera professionale. Sta a voi coglierlo. Sagittario. Amore, dimenticate gli errori del passato e voltate pagina. La luna promette nuove esperienze damore se siete in coppia, altrimenti guardatevi intorno. Per i single è venuto il momento di difendere chi amate. Lavoro, siete un po sottotono per qualche problema lavorativo. Occupatevi del vostro operato e non avrete di che preoccuparvi. Capricorno. Amore, parlate con meno asperità per evitare polemiche e far arrabbiare il partner. Non mettete carne al fuoco. I single non avranno che da scegliere per trascorrere una serata indimenticabile. Lavoro, tutto è sotto controllo e anche i superiori se ne accorgeranno. Siete stati grandiosi. Acquario. Acquario. Amore, non abbiate paura di prendere liniziativa, il partner non attende altro. Non date peso a qualche piccolo litigio, passerà. I single dovranno stare attenti a non confidare troppi segreti, qualcuno potrebbe tradire la vostra fiducia. Lavoro, è il momento di riflettere su una decisione lavorativa, ma tutto ciò che inizierete oggi sarà un successo. Pesci. Amore, se la vostra relazione sta crollando lasciate che prenda il soccorso. Forzare le cose non è un bene, vi trovereste a fronteggiare qualcosa che non esiste. I single potranno conquistare molte persone grazie al loro fascino e forse troveranno anche lamore. Lavoro, non siate arrendevoli e combattete per raggiungere i traguardi desiderati. Qualcosa di buono potrebbe accadere per cambiare la vostra vita. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e il video ti è piaciuto. Iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Iscriviti al canale. 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 Iscriviti al canale.